120 chilometri di percorso sul lago maggiore a ritmo lento del coastal rowing è girovogando il nuovo format di remo turismo della federazione italiana canottaggio presentato a maccagno con pino e veddasca nel varesotto la partenza della prima tappa di girovogando è prevista il 18 settembre da maccagno obiettivo di girovogando è quello di unire arte cultura divertimento far conoscere il territorio nella sua totalità e anche aggregazione di popoli perché comunque girovogando è un progetto aperto anche ad altre nazioni quindi unire integrare il remo turista straniero con il remo turista italiano sicuramente questo è un bello obiettivo da raggiungere il territorio visto dal lago è straordinariamente bello io il lago lo conosco molto molto bene eppure quando accompagno i turisti e i vocatori in queste istruzioni dalla barca di supporto quindi a bassissima velocità di un quello che è un remo turistico relax rowing ancora oggi scopro angoli punti di vista scorci chiave o avevo dimenticato o non avevo mai notato quindi tutte le volte per me non è un rifare ma è un riscoprire avere il girovogando che parte da maccagno ha un significato particolare per noi che è quello di ribadire riuscire a rimarcare il nostro brand cioè il lago maggiore che per troppo tempo è rimasto legato un'immagine esclusivamente piemontese all'edito dei borromei realtà straordinarie ma noi abbiamo bisogno di far conoscere la nostra zona girovogando quindi è la prima edizione di una lunga serie ci immaginiamo che porti qui i turisti stranieri italiani che vedono questi luoghi si innamorano di queste acque e abbiano voglia di ritornare